La tana del frerito Ciao Broderigno Ricordatevi ragazzi, entrate e fate una gag d'impatto non so, entrate e fate qualcosa di assurdo vi dico che le cose no sense fanno molto ridere quindi entrate, scrivete a Don Medin su Instagram se volete entrare o raccontate una barzelletta ovviamente che non sia bannabile possibilmente raccontate qualcosa di d'impatto, insomma fate qualcosa che pensate che possa fare ridere al momento, cioè non che deve essere una roba che faccia proprio ridere di colpo non ragionateci troppo, cioè fate pazzie fidatevi, quelle lì fanno molto molto più ridere, pronti? Da adesso non si ride mi ha fatto ridere che ho sentito il ritorno in cuffia, fine ok questa qua era la gag, ok queste cose qua sono d'impatto, ve lo dico quindi fateci caso a queste cose qua perché sono d'impatto, ve lo dico difficile ridere proprio per queste però se la fate bene bene potrebbe essere, potrebbe colpire in qualche modo, ve lo dico si fa ridere di imbarazzo, lo so, però è comunque ridere, che cosa ne pensi Vez? a me faceva ridere molto molto divertente effettivamente, via! buonasera buonasera ehi è uguale è uguale è uguale madonna cosa fa un chicco di caffè sotto la doccia? no ti prego non lo so si lavazza io lo so si lavazza ma fammela finire questa faceva schifo effettivamente faceva schifo va bene Ash hai qualche altra profezia da darci? peccato questa era la parte divertente questa facciamo decisamente ridere si la risata è tremenda era molto divertente va bene io non ho niente a dire ok grazie Ash aspetta ma si può sorridere? no? si si può sorridere ma basta che non ridi proprio di gusto ok mamma mia urca questa è tosta questa è veramente peso bellissima veramente cacciatini fuori non so cosa fare non so cosa fare si vede sembra più un sottomesso no scherzo scherzo non è vero mi dissocio sono pelato pure no no non è vero ha detto ho il cane si si questa è stata molto pesante prendo le distanze comunque che stava dicendo al cane questa è stata veramente pesante questa è la difficile scusate ma qua c'è un po' di f*** per piacere scusate scusate ho sbagliato strada faccio via vado via c'è una diversa vuoi si mette a bestia vuoi a te ho fatto a loro piedi vuoi si mette a bestia scusa allora prendi pannocatta cominciò a tagliare fine fine poi dopo scusami non è che mi passerei similandana per piacere padella grazie cominciò a tagliare fine fine no scusa no non dico hai cagato perché c'è un meme che la tana del ferito ciao predrino vuoi imitare me devo imitare te no no vabbè no 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 questo qua no ragazzi scusate questo qua davvero scusate ma questo qua davvero un po' pannabile un po' pannabile questo qua invece sul rupino un po' borderline un po' borderline a zacchero quando c'hai 16 anni grazie moon dai dimmi qualcun altro lo imito prova a imitare zano 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 aspetta a raga a raga a raga a raga a raga a raga è giuro che c'è sta uscire in frevo raga a raga a raga a raga questo no questo è Itas raga questo è Itas questo è Itas raga no questo è Itas no 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 baritto raga cabaretto perché ci schianto vivi nel parchetto spaccio cocaina mannaggia google mannaggia la cazzalelle la vicina pecorina si fa un bel un bel omiatol xyuder xyderone no questi qua non li so no ti faccio li tupo anch'io aspetta ciao cari amici del web oggi mangerò 90 scatole di merendine al ciccolato davvero voloso questa è acqua davvero sana siamo pronti per mangiare un pollo con dentro un pollo con dentro un altro pollo un pollo nel pollo nel pollo grazie ciao mangiate bene a faccia a faccia no vabbè la p***ata potete risparmiartela ma betz si è bloccato o cose betz betz è entrato in un'altra dimensione va bene riscatto grazie mille vuoi altre imitazioni da propinarci non lo so sì o no ah posso farti coso è beppe bergumi ok ci sta ho detto gli avevo chiesto se ce ne avesse non ho chiesto se non era scontato ma dai ma se basta è strattivissima vabbè gli ho chiesto se avesse altre imitazioni mi ha detto sì le ho ne ho una ho detto vabbè non mi interessa una mangia una banana la fa la faccia strana e poi fanno un saluto e un bacio a tutti la ferrana italiana la fanno un saluto un po' troppo un po' troppo ho paura hai fatto cos'era? decisamente avevo decisamente paura no 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 cioè a parte che non si vedeva nulla ti amo bene questa è bellissima però sei bellissimo ma io vi dico ma chi la trova? sì sono sottomesso come Jody aia veramente veramente cattiva ma me fate ridere voi a gaga a gaga che c'è una Mastellina che proderata credibile senti ma no Green ascolta ma tu lo sai che cosa ci fa un cattolico anzi un gallo cattolico in chiesa lo sai o no lo sai dimmelo è importante è importante che tu me lo dica no non lo sai davvero? un gallo in chiesa fai il chicchirichetto questa faceva decisamente schifo l'avevo intuito no più o meno c'ero quasi anche io faceva riderissimo l'immagine del profilo puoi chiedere a Nicola su Gavino l'aria che non ce la faccio yes posto? il ragazzo Valtra ha scritto qualcosa che non può scrivere però VALTER dove è che ha scritto? Valtra volta eh pezze pezze geloso piccolino ok ma che avanti piccolo timing piccolo timing piccolo timing va bene va bene aveva fatto tutto aveva fatto tutto va bene va bene it's time to chatting with Moonride mi manca stare da solo in mezzo al mare pure quando è mosso prendi una barca per starci con me voglio stare lontano dalla polvere chec'è chec'è Grazie a tutti.